Molto breve anch'io, grazie Presidente Ferroni, un saluto al Signor Sindaco, al Presidente della Regione, al Prefetto, all'autorità, senatrici, deputati presenti e naturalmente a tutti i lavoratrici, i lavoratori, i ricercatori. Molto brevemente, noi abbiamo scelto di essere qui per i due anni del Governo e poi saremo in un'altra azienda, in un'azienda, ancora in Abruzzo, in uno dei luoghi dove in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto Jobs Act, cioè le prime assunzioni, per dare un messaggio, che è questo. Noi abbiamo fatto nei primi due anni tanto lavoro, poi qualcuno lo condivide, altri meno, ma sta nella regola del gioco, nella regola della politica, sulle riforme, la legge elettorale, la riforma costituzionale, le stesse riforme della scuola, del lavoro, l'abbassamento delle tasse, tutte questioni su cui ciascuno la può pensare in un modo o nell'altro, ma che sono ormai dei dati di fatto. Il punto è che queste cose riguardano il passato, non il futuro dell'Italia. Cioè è evidente che la legge elettorale riguarda il futuro, ma è una discussione che è aperta da 20 anni. È evidente che la riforma costituzionale riguarda il futuro, ma è una discussione che è aperta da 70 anni. Qual è la vera scommensa? È quella di immaginare dov'è il futuro dell'Italia, non soltanto dov'è il presente e, se volete, il passato della discussione politica. Io penso, credo, che questo sia uno dei luoghi in cui si tocca il futuro del Paese. Il futuro dell'Italia per noi è nella ricerca, nell'innovazione. Il mondo sta cambiando a una velocità impressionante. E questo cambiamento che è in corso nel nostro pianeta, non soltanto nel nostro Paese. È un cambiamento che porta sempre di più a investire sull'intelligenza, sul talento, sulla creatività e sulla ricerca, sulla curiosità e sullo studio. Da questo punto di vista l'Italia ha bisogno di semplicemente ritrovare se stessa, perché c'è un racconto che negli ultimi 20 anni ha avuto la meglio, per il quale l'Italia è soltanto crisi in questo settore. Ed è soltanto crisi vuol dire che si fanno grandi elogi per chi va all'estero, e si ritiene che chi sta in Italia non abbia alcun istituto di ricerca all'altezza. Vorrei essere chiaro, è giusto andare all'estero, è giusto fare esperienze all'estero. Il racconto è molto banale, manicheo dire all'estero bene, all'Italia male o viceversa. Non è così. Il mondo globale è interconnesso e quindi come ci sono 700 ragazzi e ragazze, donne e uomini che vengono qui dall'estero e qui fanno la loro scommessa di vita o comunque una parte della loro scommessa professionale, è altrettanto vero che altri di noi fanno ricerche in tutto il mondo. Non bisogna continuare ad aver paura del mondo senza frontiere, ma bisogna far sì che i nostri istituti siano all'avanguardia. La fisica italiana è tra le più forti al mondo nella sua storia, per la sua potenza, per la sua grandezza. La scuola italiana è una scuola che ci rende orgogliosi. Noi abbiamo una grande responsabilità, continuare questa storia e se è possibile innovare. Ed è necessario innovare, non è soltanto possibile. L'INFN parte di questa scommessa, è una parte qualificante, lo sa il Presidente Ferroni, lo sanno i suoi collaboratori, lo sapete tutti voi. L'INFN è una delle realtà più importanti del mondo. Dall'INFN sono usciti tanti talenti in passato, oggi Fabiola Gianotti nasce da qua, nasce da questa storia e della direttrice del CERN, forse di uno degli istituti più importanti a livello internazionale. Ma le principali iniziative, le principali scoperte anche di questo ultimo periodo vedono comunque anche in parte la nostra firma, la vostra firma. Penso alle onde gravitazionali, a ciò che è accaduto a Cascina nella copartnership con gli americani. Vi segnalo che, e lo dico ai giornalisti, che sono tre i centri di ricerca da cui è stato possibile lavorare sul grande tema delle onde gravitazionali, i tre centri di ricerca leader, due di questi sono negli Stati Uniti, uno è in Italia e credo che qui al Gran Sasso Science Institute ci siano, li ho salutati prima, alcuni dei ricercatori che hanno lavorato su questa scoperta. Gran Sasso Science Institute che è una realtà che sembrava impossibile immaginare anche soltanto fino a qualche anno fa e che grazie al lavoro di tutti, a partire dagli studiosi, professori e anche dagli enti locali, è una delle realtà oggi presenti e forti nel mondo. Bene, tutto questo per dire che cosa? Che siamo a prendere atto di una situazione straordinariamente forte. Chi racconta che l'Italia è soltanto un problema in questo settore dice una bugia. Basta? No. Perché negli ultimi anni abbiamo visto venire meno dei fondi e questo è un errore ed è il motivo per il quale per la prima volta non soltanto si è arrestata la caduta del finanziamento, l'INFN riceveva 230 milioni lo scorso anno e sempre meno, negli ultimi anni ha perduto almeno il 15% del finanziamento. Noi quest'anno abbiamo riniziato a restituire una parte dei soldi, da 230 siamo andati a 245, ancora non basta. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi metterà in atto e quindi i 60 milioni necessari a far sì che il Gran Sasso, meglio che i lavoratori del Gran Sasso, poi c'è anche il tema della legge sul Gran Sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura e non soltanto in quel settore ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane mesi e Cialente applaude perché l'applauso l'ha fatto partire Cialente, segnalo, non ricercate. Tutta la parte filosofica Cialente non è piaciuta granché, poi siamo arrivati alla parte della valorizzazione esistenziale e lì invece è stato significativo e ne approfitto per dire che questo tipo di attività è per me una delle priorità su cui vedrete lavorare nei prossimi due anni. Dunque occorre un patto, da un lato bisognerebbe smettere di raccontare l'Italia soltanto in negativo in questo settore perché è un'offesa alla scuola italiana e a ciò che rappresenta, dall'altro però bisogna che la politica faccia di più e meglio ed è un impegno credo che possiamo prendere insieme. Detto questo e detto che andiamo in questa direzione, ne approfitto ancora 30 secondi, 40 secondi per ringraziare il sindaco Cialente, il presidente D'Alfonso e tutti gli amministratori per ciò che sta avvenendo all'Aquila. Arrivando da fuori si vedono tante gru, mi hanno spiegato che sono 92, sta ripartendo finalmente il lavoro nel centro storico, era un impegno che ci eravamo presi, io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno, quindi oggi non parliamo dell'Aquila, ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando, finalmente sono arrivati i soldi, ci sono tutti per fare un ottimo lavoro, ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita e ahimè dopo dimenticata, ma siamo passati dalle chiacchiere ai fatti e credo che sia un fatto importante e positivo e adesso la vera scommessa è quella di riuscire a tenere insieme dalla cultura all'innovazione, alle imprese, alla ricerca, questa città come una delle città in cui si tocca con mano la ripartenza dopo il terribile sisma del 2009. Tutto questo mi porta a concludere, sono stato fin troppo lungo, adesso andiamo a Chieti, andiamo alla Walter Tosto, che il punto cruciale di questi due anni non è guardarsi indietro per quello che è stato fatto, ma guardare avanti, guardare avanti per il governo, il governo ha due anni davanti e deve non sprecare neanche un giorno per rilanciare l'Italia, ma guardare avanti soprattutto come paese e sotto questo profilo lasciatemelo dire, l'università, la ricerca, l'innovazione, gli istituti che hanno bisogno, è un impegno che ci si è appresi al CERN, Ferroni era lì e con lui la sua giunta e lo confermo, cioè nella riforma della pubblica amministrazione, liberare dai vincoli della pubblica amministrazione gli istituti più prestigiosi, quelli che hanno la possibilità di competere a livello internazionale, evitare che siano costretti a stare alle stesse regole a cui devono soggiacere le ASL, insomma un istituto nazionale, con tutto il rispetto per le ASL, un istituto come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha bisogno di regole più semplici, di possibilità di competere con gli istituti privati, perché poi quello che abbiamo visto a qualche metro in profondità è lo stesso che poi accade in tutto il mondo, ci sono due progetti accanto che cercano di farsi competizione tra di loro, perché la competizione è una cosa bella, però allo stesso modo sappiamo che dobbiamo competere con i nostri amici americani, con i nostri amici tedeschi, con i nostri amici israeliani, con i nostri amici cinesi con cui pure abbiamo anche molte cooperazioni e collaborazioni, ma questo è quello che deve fare un istituto di ricerca oggi al mondo, essere il migliore semplicemente e l'INFN e il Gran Sasso possono andare in questa direzione. Bene, allora ho terminato, cos'è che ci caratterizza, perché siamo qui dopo due anni? Per dire che la sfida più bella deve essere ancora vinta, è la sfida della curiosità, dell'innovazione, della ricerca, per farlo vorrei fare un gigantesco in bocca al lupo ai ricercatori? Se volete andarvene all'estero, fatelo. Siamo pieni di presidenti del Consiglio e di ministri che dicono non andate via per carità come se fossimo la mamma preoccupata che uno esce di casa, se volete andare perché pensate che per il vostro piano di studi sia meglio andare all'estero, fatelo. Noi quello che femmo è fare dei nostri istituti i luoghi al top a livello mondiale, per cui non sia una scelta di buon cuore quella di restare in Italia, perché magari mi fanno le pappardelle medio perché sono vicino a casa, ma noi vogliamo fare dell'Italia un centro che sia capace di attrarre, di attrarre in primis i giovani italiani, se ci sarà possibile, ma anche i giovani di tutto il mondo. È quello che si tocca con mano qui dentro, 30% di italiani, 70% di stranieri, trovo sempre gli articoli sulla fuga dei cervelli, mai sulla attrazione dei cervelli e contemporaneamente che facciamo ormai in tutti i luoghi nei quali la competizione è globale. Dunque l'impegno di oggi non è soltanto dei 60 milioni, l'impegno che pure Cialente ha evidenziato, l'impegno di oggi è quello di riuscire a fare sempre di più dell'Italia la patria del futuro, non soltanto un luogo nel quale ricordiamo il passato. E il passato della fisica nucleare in Italia è straordinario, persino io l'ho capito, quindi se l'ho capito io l'hanno capito tutti, però la pagina più bella deve essere ancora scritta. Il nostro augurio è quello di scriverla insieme. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro e buona ricerca.